Io ho trovato Finister che l'ho ristaurato. Ho cominciato a sognare. L'aria di mare è Finister più grande, più comodo. La. 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 Il trattamento a vela è eccellente, è molto stabile. Pur essendo integralmente costruita in legno, non ha bisogno di quelle manutenzioni straordinarie come tutte le barche in legno. Abbiamo costruito a finiture eccezionali, immobile quasi. Direi che è una marca perfetta. Grazie. Grazie. Grazie.